Ciao Christine Ethers, bentornati sulla mia scrivania. Ho appena ricevuto un bellissimo pacchetto dal sito jewelcandle.it. Di cosa si tratta? È un sito che è specializzato nella vendita di candele profumate, ma non sono delle semplici candele perché all'interno contengono una sorpresa preziosa, ovvero un gioiello. Potrete trovare infatti un anello, degli orecchini o un pendente per collane realizzato in argento 925 e del valore che può arrivare fino a 250 euro. Questo è il loro sito jewelcandle.it dove potrete trovare non solo tutti i loro prodotti ma anche altre informazioni, ad esempio, su come vengono realizzate queste candele che sono di altissima qualità. Infatti qui c'è scritto che vengono prodotte in Europa, sono praticamente fatte a mano perché non utilizzano enormi macchinari industriali. Il disegno che trovate sul vetro di ogni candela è stato progettato e dipinto dagli artisti, quindi diciamo che anche il disegno è molto particolare. Le materie prime che vengono utilizzate per la realizzazione della candela sono ecocompatibili e quindi non contengono vernici, non ci sono agenti plastificanti, cadmio, gli stoppini sono privi di piombo e la lavorazione della cera avviene in assenza di zolfo. Insomma, sono davvero delle candele bellissime e curate nei minimi dettagli. E poi all'interno c'è questa bellissima sorpresa, quindi potrete trovare dei gioielli anche di un certo valore. La trovo un'idea regalo davvero bellissima. La spedizione è stata davvero veloce, ci hanno messo un giorno lavorativo e mi è arrivato il tutto in un bel pacco grande, quindi era tutto ben imballato e ben protetto. Ora vado a togliere la candela da questa scatola e ve la mostro più da vicino. Ci sono varie fragranze, quella che è arrivata a me, è miele e latte. La candela è chiusa da un tappo ermetico, quindi vedete anche la confezione è molto carina e quando finisce completamente la candela, quando la cera è terminata, potete anche utilizzare questo barattolo per contenere ad esempio del sale colorato o altre cose. È davvero un contenitore molto molto carino. Il profumo ovviamente non potete sentirlo, ma devo dire che è davvero molto molto piacevole di latte e miele proprio. Sul retro c'è un bigliettino dove trovate appunto il nome del sito e all'interno c'è scritto congratulazioni per la tua jewel candle. In ognuna delle nostre candele fatte a mano troverai un gioiello del valore fino a 250 euro. Ogni jewel candle è prodotta con tanto amore per i dettagli e materie prime di alta qualità. E qui c'è anche la firma che appunto attesta la qualità di questa candela. Dal vetro si riesce ad individuare dove si trova l'anellino, eccolo qui. È protetto da una bustina trasparente ermetica ed è avvolto a sua volta da una particolare carta che è resistente al calore. E potremmo estrarlo solo dopo aver tenuto accesa la candela per diverse ore. Sono curiosissima di sapere che anellino è nascosto all'interno di questa candela, quindi vado a prendere un accendino e la vado ad accendere. Non ci resta che attendere qualche ora. Ed eccoci ragazzi, sono passate circa tre ore da quando ho acceso la candela e quindi direi che ci siamo. La cera proprio in prossimità di dove si trova l'anello non si è proprio sciolta, però visto che non sto più nella pelle, sono curiosissima, direi di cominciare a scavare con le pinzette e a recuperare l'anellino. Ma per prima cosa devo spegnere la candela. E voilà! Ce l'ho fatta finalmente! Mi aiuto con delle forbici per aprirlo. Nel frattempo vi dico una cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima, ma che sicuramente avrete già notato perché ve l'ho scritta in sovraimpressione qui in alto dall'inizio del video. Se volete acquistare queste candele con all'interno un gioiello, vi metto a disposizione il mio codice sconto, che è uno sconto del 20% che potete utilizzare fino a fine luglio. Quindi se effettuate un ordine dal sito Jewel Candle entro fine luglio, potete usufruire di questo codice che è Cristina1, Cristina ha scritto tutto a lettere minuscole e poi il numero 1 scritto appunto a numero non a lettere, e vi darà diritto a questo 20% di sconto sul prezzo del vostro ordine. Mamma mia quanto è imballato questo anellino! Non esce più fuori! Giustamente è protetto dalla cera e dal calore. Eccolo qui, ci siamo quasi. Wow! C'è ancora un po' di cera, ora cerco di toglierla. Apro finalmente questa bustina trasparente. Ma già ho intravisto che questo anello è davvero molto bello, ci sono anche delle pietre. Et voilà! Wow! È davvero bellissimo! Come potete vedere è d'argento. Sulla targhetta c'è scritto 925 sterling silver, che appunto ne certifica il materiale di cui è fatto. E poi qui sul davanti c'è questa bellissima pietra trasparente con altre pietruzze tutto intorno. E ci sono anche tre o quattro, tre pietruzze piccoline, e qui proprio sull'anello. Spero che mi entri. Eh sì, è esattamente della mia misura, per fortuna. Wow! Sembra davvero molto molto prezioso. E niente ragazzi, questo è tutto. Sono davvero contentissima di questa sorpresa, di questo anellino sorpresa che ho trovato all'interno della candela, della Jewel Candle. Confermo che è un regalo molto molto carino, quindi se non avete idea su cosa regalare a una vostra amica, la vostra mamma, la vostra fidanzata, vi consiglio davvero di prendere queste Jewel Candle dal sito jewelcandle.it. Inoltre vi ripeto che potete usufruire dello sconto del 20% che trovate qui su in alto fino a fine luglio 2016. Fatemi sapere in un commento cosa pensate di queste Jewel Candle. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel pollice in su e per rimanere sempre aggiornati sui video che carico, iscrivetevi al mio canale. Ciao Christine Edwards, al prossimo video! Ciao!